Negli ultimi dieci anni ha chiuso una su quattro e così sono duecento le stalle sopravvissute all'emorragia in Toscana. Ma adesso di fronte all'aumento esplosivo dei costi di produzione la sopravvivenza è a forte rischio. Dopo la protesta dei giorni scorsi a Firenze e Grosseto arriva il primo accordo di filiera, siglato tra coldiretti e confcommercio per il consumo del latte a chilometro zero. Munto in Toscana è destinato ai bar, pasticcerie e gelaterie della regione. Un stalla ai bar per garantire la giusta remunerazione agli allevatori e la garanzia per i consumatori di poter comprare prodotti fatte con il latte locale. Capire che il problema non è solamente un problema economico del mondo agricolo però la crisi produttiva, la crisi dei prodotti toscali significa la crisi di un sistema, la crisi possibile di un territorio per cui mettersi insieme ai vari mondi, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione è la risposta migliore anche a questi giorni terribili con questa crisi che stiamo vivendo. In Toscana la bevanda bianca per Antonomasia si attesta intorno alle 60.000 tonnellate prodotte tra il 2020 e il 2021 contro le 80.000 che venivano prodotte tra il 2003 e il 2004. Un litro di latte sugli scaffali della grande distribuzione costa in media 1,70 euro al litro con punte anche di 1,85 euro mentre lo stesso litro di latte alla stalla viene pagato agli allevatori appena 37 centesimi. Secondo l'indicatore sintetico milk feed elaborato da Esmea si è scesi sotto la soglia critica e la crisi energetica può solo aggravare la situazione. Per evitare la dipendenza alimentare oltre che energetica perché dobbiamo essere consapevoli che dalle piccole scelte vuol dire aiutare e far rivivere il nostro territorio.